Quello che deve essere chiaro è che sta barzelletta del MES deve finire. Quindi quando vi fanno grillini e leghisti tutta la polemica sul MES, vi stanno prendendo in giro. Allora, il MES nasce per le crisi finanziarie asimmetriche degli Stati, l'esempio la Grecia. Qui si dice che sarebbe un MES senza condizioni, ma essendo un trattato, le condizioni potrebbero non esserci oggi e rientrare dalla finestra domani. Come stanno le cose, Presidente? Sì, infatti la questione non è così semplice e non credo che possa essere affrontata in modo così semplicistico. Prima di tutto, il MES, come l'abbiamo noi conosciuto rispetto all'uso che si è fatto con la Grecia, non è un MES che ci appartiene e che ci piace. Il MES, in parte, senza condizionalità, riferito solo all'emergenza, è un qualcosa che ancora dobbiamo vedere. Sono documenti che vanno scritti, che vanno letti più volte e se ci sarà questa scrittura di questi documenti, poi li leggeremo. Ma fino ad allora, per me, in questo momento c'è solo il MES così come lo conosciamo, il MES così non va bene. Quindi noi dobbiamo poter contare su un'Europa che sia assolutamente unita e soprattutto che sospenda in modo direi quasi definitivo il patto di stabilità.